Abbiamo iniziato a prendere controllo in diversi siti che sono in isla. Polizia, in caso di che sono in un'unità, tra le altre, il team e anche il team di accezione a uni e un'unità a parare la quantità di veicoli in caso di convoi e anche bussare e controllare le persone che sono traficati. Abbiamo iniziato a detenere varie persone che sono iniziato a fare una forma illegale in isla in misura, arrivando per il Departamento di Immigrazione, per se ne poi acaba di attendere con noi. Abbiamo iniziato a un'unità, un'unità europea, che non chiede a guardare la polizia e non ci sono iniziato, ma ci sono iniziato a detenere e amare qui e ci sono iniziato a guardare con noi, ci sono iniziato a attendere con noi arrivo su comportazione. Seguro e controllano qui, ma nel giorno che ci sono iniziato, abbiamo continuato a guardare la quantità illegale che ci sono arrivo nella isla. Polizia sicuramente ha fatto come un duro per lo che si tratta, e se non è logicamente pura per deportare un'unità possibile per il nostro paese. La notizia di stress è informato. Jason Logan